Chi è che mi ha cappottato? Lo sapevo io! Alessandro! 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 Signor Campa vuole una mano? Grazie! T'ho fatto girare lì a posto? Mi giro... Mi giro... Mi giro... Andiamo a prenderli dall'altra parte dai su! Non ho capito! Non ho capito! Guardalo guardalo! Colore confetto! Guarda che spettacolo! Ah prova! Dai gliela una randellata! Ma chi c'è qui che mi vengo a trovare? Arriva! 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 Facca puttana! Passato indenne! Ma Alessandro dove sei? No! No è trasparente lui! Lo sto chiedendo anch'io! Guarda dov'è! Che stai facendo? Ah ok! Facciamo doppia cosa qua! Vai vai! Schiara il muro! Spinci quando arrivano! Si ok! Attenzione! Attenzione! Al mio segnale! Al mio segnale! Al mio segnale! Che è tornato all'inferno! Vai cazzo! Spingi! Dai vai! Ma che cazzo è successo! Va deviato porca tro... Nooo! Per poco! Siiii! No! Eri trasparente! Eri trasparente! Eri trasparente! Eri trasparente! Eri trasparente! Eri trasparente! Se sei fatto a questo gioco con i direct drive siamo pazzi però eh! Eri trasparente! Quello è il bello! Come la roulette russa! il camion di ali ragazzi è una pezza non è messo male no l'erba in salita impossibile ripartire proprio formazione a diamante vai che arriveranno qui due la ecco riguardi oddio sono volato ma io una preda qua ce l'ho scritto hai visto siamo incastrati sembrano tante moto zappe che stanno sistemando il prato è piaciuto il rientro safti c'è che breve c'è un rimorchiatore non c'è più il camion e devi vedere il tuo quanto ha dato warning ma cazzo è solo contro senso e mi dai warning mettiamoci a formazione piramide ragazzi ma donna ma donna cosa ho fatto mamma che botta 40 metri in aria c'è andato 40 metri in aria oh no è il safety track quello c'è una prima vittima raga ah ok attenzione eccolo boom lo tengo lo tengo ma che succede sono in piedi dove sono messo ma se tu Ale e senza danni distrutti sti cosi ti ho ucciso però come i pazzi qua è molto ricordo race complete ragazzi perca troia che gara mamma mia è stato bellissimo vedere Alessandro e Fabrizio che scendevano dalla collina a 200 all'ora la mia max là sotto grazie Grazie a tutti.